Forti di un'esperienza ultra quarantennale, auguro il benvenuto a tutti coloro che vorranno visitare l'azienda I Nobili, questa nuova struttura nata dall'esperienza della Mastro Geppetto. Arredi in legno realizzati su misura, abbiamo risposto ad un'esigenza della clientela la quale chiedeva continuamente stili diversi, ci ha richiesto proprio di eseguire ulteriori stili in quanto necessitavano di diversificare appunto le proprie scelte. Ebbene art deco, stile contemporaneo e industrial e necessito esternare qualcosa di veramente interessante. Pensiamo che un catalogo non possa rappresentare la vostra futura casa poiché ognuno di noi ha una personalità diversa dall'altra, pertanto il catalogo è qualcosa che accomuna tante persone. Diversamente da ciò siamo in grado di effettuare un tour virtuale oltre che è il progetto eseguito a mano, quindi che rappresenta un po' quella che è la nostra artigianalità, ma soprattutto vi troverete di fronte alla progettazione di casa vostra già realizzata prima ancora che avvenga l'eventuale ristrutturazione chiave in mano oppure alla nostra progettazione d'arredo. È fondamentale quanto vi esterno in quanto questa vostra futura casa sarà sempre accarezzata da quello che è il nostro legno, il quale renderà casa vostra sempre più calda e accogliente. Il vostro progetto verrà curato da un team di architetti che con voi studieranno ogni singolo dettaglio pur di realizzare al meglio casa vostra. Grazie a tutti.